Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Allora oggi, come avevo detto l'altro video, oggi parliamo di Vodafone e del bonus internet. La procedura è la stessa, ok? Vai sulla pagina dedicata e metti i tuoi dati per essere contattato, ok? Ti scarichi il modulo da compilare, ti lascio il modulo nel mio sito, te lo scarichi e te lo compili. Però io, più che altro, questo altro video per quanto riguarda Vodafone, dato che è uguale, dice perché l'hai fatto tanto inutile? No, per fare una puntualizzazione un po', perché c'è tanta confusione. Allora, io ho sempre detto, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro negli altri tutorial, che praticamente chi può soffrire del contributo è la persona, cioè la famiglia, l'utente, come lo potete chiamare, che ha un reddito ISEE sotto i 20.000 euro, ok? Sotto i 20.000 euro. Nella sua zona non è coperto da internet sopra i 30 mega, ok? Cosa voglio dire? Adesso vi spiego meglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una DSL 20 mega, posso chiedere il contributo, ok? Se non ho un contratto telefonico e sono coperto da una connessione minimo 30 mega in download, posso chiedere il contributo. Se io ho un contratto già attivo di 50 mega di mega in download, però io vedo che nella mia zona è arrivata un potenziamento di banda, ok? 100, 200, 300, dipende dall'operatore, eccetera. Ok? Allora io posso chiedere il contributo. Per esempio, il contributo viene dato a chi fa un upgrade di banda. Se invece tu hai, come ho detto all'inizio, un contratto già in essere e la tua connessione non aumenta di potenza, non puoi più chiedere il contributo. Ok? Naturalmente, se volete sotto a questo video o magari meglio sotto ai vari video che ho fatto Vodafone, Wind e Team, vi mettete nei commenti la richiesta d'aiuto e io magari vi posso dare una mano per vedere la copertura e consigliarvi la tecnologia, perché molti non sanno che, per esempio, anche se voi abitate via Pincovallino e vedete che non siete coperti, non avete requisiti per connettervi, magari c'è il modo per poter chiedere il contributo con una tecnologia, con una tecnologia particolare. Ok? La tecnologia radio. Va bene? Perciò, se voi vedete che praticamente da soli non riuscite a fare, volete chiedere dei consigli, delle informazioni in più, basta che mi contattate sotto ai vari video, dipendente da quale operatori siano interessati. Ok? Molto semplice, penso di essere stato chiaro. Allora, ripeto, abbiamo detto che il contributo è per chi ha un ISE sotto ai 20.000 euro. Se hai già un contratto in essere attivo, con X operatore, devi fare un upgrade di banda. Ok? Se non hai invece nessun contratto in essere, con nessun operatore telefonico, o vuoi cambiare casa, ti devi trasferire quello che vuoi, il minimo per poter chiedere il contributo è solo 30 mega. Ok? Invece, se tu hai il contratto in essere, ok, e hai già il 30 mega, non puoi chiedere il contributo. Va bene? Con questo tutorial è tutto, spero di essere stato utile. Ripeto, commenta il video se hai bisogno di aiuto, iscriviti al mio canale se non l'hai fatto, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!